In collaborazione con Siamo prontissimi per la raccolta delle olive Ma ve lo racconteremo in una delle prossime puntate Oggi ci occupiamo con un flash del baccanale Cermesse Eno Gastronomica Culturale Che si è inaugurata, organizzata dal Comune Edimola E che proseguirà per tutto novembre Un baccanale che si presenta con alcuni eventi annullati Ma che si presenta anche con tantissime occasioni da gustare Dai ristoranti alle grandi mostre mercato In spazi aperti nelle piazze della città È partito il conto alla rovescia per Eima Digital Preview Online dall'11 novembre In questa puntata vedremo come si vive la vigilia E daremo tutte le informazioni pratiche per visitarla al meglio Poi ci sposteremo, andremo a Bentivoglio Al Museo della Civiltà Contadina Per parlare di fattorie sociali Tema al centro di un incontro organizzato da donne in campo In occasione della giornata mondiale della donna rurale Il tartufo bianco, questo prezioso funghi pogeo Ce ne occuperemo oggi in questa puntata Siamo andati in Appennino anche con un cane per la ricerca del tartufo Poi abbiamo visto la sua valorizzazione in cucina Siamo a Savigno, territorio ricco di tartufi E famoso appunto non solo per questo ma anche per i suoi vini Eccoci pronti alla raccolta delle olive Che vi racconteremo in una delle prossime puntate Rispecchiando anche una tradizione secolare dell'ulivo In queste aree collinari imolesi Stiamo preparando anche una bella tavola Per assaggiare insieme l'olio novello E raccontare le caratteristiche di questo prodotto Che caratterizza la nostra bella Italia E l'Emilia Romagna e questo areale imolese Come dicevamo insieme alla vite e al vino Ahimè olio e vino saranno due elementi Non più protagonisti della baccanale di Imola Che si è inaugurato proprio la settimana scorsa Perché il nuovo DPCM ha determinato la sospensione Di tanti eventi Sarà un baccanale azzoppato Insomma sarà un baccanale estremamente in tema Perché l'hashtag di quest'anno è A casa e fuori Ed è stato rispettato già nel momento di inaugurazione Con la manifestazione al teatro comunale di Imola A porte chiuse anche in questo caso E la consegna del garganello d'oro A casa Artusi Perché Pellegrino Artusi è davvero Il padre della cucina di casa Ma era un grande frequentatore anche di osterie E il ristorante quindi coniuga queste due anime Ivano Marescotti ha accompagnato il pomeriggio della manifestazione Però dicevo un baccanale azzoppato Ma non chiuso perché sarà un baccanale Che vedrà comunque tantissimi eventi Intanto i ristoratori I ristoranti vi aspettano con tutti i menu a tema Che sono stati pubblicati nel giornalino Che è stato distribuito a tutte le famiglie E nei Depliant che si trovano in tutti gli esercizi pubblici E poi continueranno però le mostre mercato Che restano confermate Dedicate alla promozione dei prodotti agricoli E denogastronomici del territorio Previste all'aperto In questa domenica 8 novembre Nelle prossime del 15 e 22 In piazza Matteotti e piazza Gramsci Ricordo anche che il 15 novembre Ci sarà la giornata del ringraziamento col diretti Con i produttori di Campagna Amica Io a questo punto ho detto tutto Ovviamente aggiornamenti in progress www.baccanaleimola.it E noi ve lo racconteremo nelle prossime puntate Allora, sagre e fiere annullate Lo avevamo già anticipato Anche Eima International È diventata online Però è in un virtuale veramente molto elaborato Allora, a questo punto sono i giorni della vigilia Di Eima Digital Vediamo come funzionerà Mancano appena tre giorni All'inaugurazione di EDP Eima Digital Preview La prima fiera online di macchine E attrezzature per l'agricoltura Online dall'11 al 15 di novembre 14 settori merceologici Un nutrito calendario di eventi online E anche ovviamente tantissima curiosità Per sapere come sarà Che esperienza ci regalerà E anche per avere Visto che mancano davvero pochissimi giorni Gli ultimi dettagli Per organizzarsi al meglio alla visita Simona Dappastella Direttore generale Federuna Coma Intanto come prima cosa Come vivete questa vigilia Con emozione Con timore Con entusiasmo Che stato d'animo c'è? Ci sono tutti i sentimenti Possibili e immaginabili È una primissima edizione anche per noi Per cui sicuramente il timore Di non colmare le aspettative alte In primis le nostre Sicuramente c'è Ma fortunatamente prevalgono Lo spirito di entusiasmo La grande passione Che abbiamo messo anche In questa grande sfida Della EDP E quindi siamo entusiasti Siamo appassionati Nel sperimentarci Anche in questa nuova veste In questa dimensione altra Di EIMA International Ecco EIMA ci aveva abituato Ai grandi numeri per espositori Per visitatori Lo stesso entusiasmo C'è anche per EDP Le aziende I vostri associati Come hanno risposto? Hanno risposto bene Anche questo dato Ci ha stupito In forma positiva Perché non c'è dubbio Che la grande quantità Di prodotti Di imprese Di varietà di gamma Noi la troveremo Anche all'interno Della digital preview Quindi anche all'interno Della piattaforma Troveremo tantissimi contenuti Anticipazioni Anticipazioni di prodotto Che potranno essere Estremamente interessanti Per il pubblico Dei visitatori Ecco i visitatori Ovviamente il conteggio Lo faremo alla fine Ci ritroveremo Per fare un bilancio Però più o meno Quanti visitatori Vi aspettate E soprattutto Ci si potrà registrare Anche a fiera aperta EDP aperta? Il numero Dei visitatori attesi È un numero Che non vogliamo dare Ma per una questione Scaramantica È chiaro che però Questi numeri Noi speriamo Siano all'altezza Anche dell'investimento Che noi abbiamo fatto Sulla promozione Della digital preview Proprio per rendere La credenza Che noi abbiamo In questo nuovo Strumento promozionale I visitatori Potranno registrarsi In ogni momento Anche ad evento iniziato Quindi la piattaforma È fruibile In ogni momento Anche dall'11 Al 15 novembre La registrazione È semplicissima Direi banale E poi magari Invece La navigazione È una cosa nuova Che non conosciamo Avete preparato Dei tutorial Dove li possiamo vedere Come li possiamo seguire? Assolutamente sì Abbiamo intanto pensato Ad una navigazione A una fruibilità Veramente semplice E facile Ma essendo Una prima esperienza Per tutti Abbiamo preparato Anche tanti Video documentario Tutorial Istruzioni Istruzioni D'uso Tutto questo materiale Lo si può Già scaricare E vedere All'interno Del sito Eima.it Nella sezione Dedicata Alla digital preview Ovviamente Si possono visitare Gli stand Sceglierli per prodotto Per azienda Però se vogliamo Un contatto diretto Possiamo averle Possiamo avere uno scambio diretto Con gli interlocutori Prendere appuntamento Questa è una delle parti Più importanti Della piattaforma Proprio perché Abbiamo voluto Sottolineare L'importanza Della relazione Per cui Tutti i visitatori Potranno chiedere Appuntamenti E Parlare Con gli addetti Delle imprese In ogni momento Ci possiamo preparare Anche un programma Che così magari Perdiamo anche meno tempo Abbiamo pensato Anche a questo La visita Della piattaforma Nell'atto aziende Potrà avere Tre modalità Di visita Una visita Libera Quindi il visitatore Potrà accedere Alla piattaforma E navigare In modo libero Da un'azienda All'altra Da un pianeta Merceologico All'altro Da un punto All'altro Della piattaforma Ma potrà anche Programmarsi La visita Sia per quanto Riguarda Gli stand Gli spazi virtuali Da visitare Quindi crearsi Una sorta di playlist Ma anche Un terzo aspetto Molto interessante Che è la visita Ad inviti Ovvero I visitatori Potranno ricevere Dalle aziende Che partecipano Alla EDP Gli inviti A visitare Il proprio Spazio virtuale E quindi accedere Attraverso Proprio Questo sistema Di inviti E iniziare La navigazione Esattamente Da quegli spazi Ma non solo La programmazione Potrà avvenire Anche per tutti I webinar I seminari La parte live All'interno Del Lago Rà Che potrà essere Programmata In anticipo E quindi il visitatore Potrà informarsi Avere proprio Anche Questa formazione Sul mondo Della meccanizzazione Agricola E della filiera In tempo anticipato Ci perdessimo qualcosa I contenuti restano Da vedere Anche Nei giorni successivi Assolutamente Tutta la parte Più relazionale Perché Il contenuto Appunto Della relazione Di tutto quello Che verrà discusso Farà parte Di un canale Leima TV Che In On demand Darà La possibilità Di rivedere In ogni momento Tutte le parti Registrate Ovvero Tutte quelle Che accadono All'interno Del Lago Rà Anche successivamente Rispetto al momento Iniziale Quindi proprio Alla diretta Degli appuntamenti Il salone è quindi Aperto 24 ore su 24 Assolutamente Sì Gli orari ufficiali Della Digital Preview Sono Dalle 9 Alle 23 Ma se Un visitatore O Un operatore Che vuole Connettersi Dall'altra parte Del mondo Ad esempio Alle 3 di mattina Alle 4 di mattina Può assolutamente Farlo Perché la piattaforma È aperta Ed è navigabile I grandi eventi Me ne viene in mente Uno per tutte Le novità tecniche Avranno una versione online? Avranno una versione digitale Molto suggestiva Molto interessante Una porta Una porta Dedicata Alle novità tecniche La troveremo All'interno Di questa grande piazza Che è quella Della Gorà Non solo Vedremo In modo Davvero molto suggestivo Le anticipazioni Delle novità tecniche Ma ci saranno anche Delle Declinazioni Di come noi Spiegheremo Queste Novità Alla pubblico Virtuale In un modo Nuovo In un'altra dimensione Che però Non anticipiamo Per creare La giusta aspettativa Dei visitatori Assolutamente Buon lavoro Per questi ultimi Tre giorni Che saranno Intensissimi Per tutti L'appuntamento È alle nove Di mercoledì Undici novembre Per l'apertura Dei cancelli Online Di Eima Digital Preview Per l'apertura Per l'apertura Per l'apertura Ero Per l'apertura Per l'apertura